Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, sì è da un po' che non parliamo più dei pollacci, ma del resto era l'ultimo capitolo e volevo tenermelo per fare qualcosa di veramente speciale, quindi tenetevi forte perché sarà il capitolone. Ora, come ben sapete, mi è sempre piaciuto inquadrare i vari campioni appartenenti ai vari patti all'interno di determinate categorie sociali, quindi i teleriani rappresentavano un po' gli studenti all'interno di un autobus, beh, qui la Plarium me l'ha data veramente veramente su un piatto d'argento col patto di Gallen che di fatto è lo zoo comunale, e i corrotti non era proprio così facile, no? E mi è venuto in mente, mi sembrano gli avventuri di una discoteca, ci sono tutte le figure professionali generalmente presenti all'interno della discoteca, quindi la cubista, i ragazzi arrapati, quello che vende le paste e quelli che poi buttano fuori la gente, insomma c'è veramente veramente tanto. in tutto questo casino e quindi direi che, beh, possiamo partire, possiamo partire. E dicevamo la cubista, quindi, torturatore, si porta anche presso il palo per ballarci attorno, insomma. Allora, design fantastico, è una versione epica di Crew Trax anche nel design, però è un campione veramente stupido, come del resto ci si aspetta anche da una cubista. Dunque, lei fondamentalmente gira intorno al fattore velo, quindi si nasconde ed esce dal suo nascondiglio, che anche questo ci può stare, comunque quella prima attacca un nemico, danno un aumento del 20%, attaccando in presenza di un buff velo, e guarisce se si trova sotto un velo. interessantissimo, qual è il problema? Che se lei ha un velo addosso, qual è la caratteristica del buff velo? Che è completamente diverso dal velo perfetto. Se un campione si trova sotto un buff velo, riceverà il 7.5% in meno di danno dai colpi ad area. Inoltre, non potrà essere preso di mira dagli avversari che attaccano a colpo singolo, e questa è una cosa interessante, visto che lei è un campione di tipo attacco, con delle statistiche veramente bassissime in termini di HP e difesa. Qual è il problema? Che il velo scade nel momento in cui il campione fa un'azione, quindi nel momento in cui cerca di attaccare, farà sì più danno, ma poi può essere colpita, perché esce dal velo. E qual è il problemone? Che questa skill fa danno, è vero, ma è una skill, è una 1, quindi è vero che la passiva le permette di nascondersi di nuovo se uccide qualcuno, ma lo deve uccidere. Non è una cosa così scontata, insomma, perché se non lo fa, poi gli altri la menano malissimo, insomma, e questa cosa succede anche con la seconda. Allora, questa ha poi anche dei buoni moltiplicatori, bisogna ammetterlo, che potrebbero potenzialmente ammazzare qualcuno e poi qualcuno resta morto. Però anche questa gira attorno al buff velo, solo se a velo si aumenta del 35% il danno, altrimenti no. Solo se è sotto l'effetto di velo, mette blocca di animazione, altrimenti no. Quindi vi impone un sacco di scelte che a volte sono un po' infelici. Io in arena non la utilizzerei mai, per esempio, che è l'unico contesto in cui potrebbe essere interessante. Perché se lei, va bene, lei parte con un velo, ma qualsiasi cosa faccia il velo lo perde, può ammazzare un avversario solo, va bene. Magari non può essere rianimato, però era uno, devo sconfiggere quattro io di persone, non una soltanto. E quindi, insomma, ritengo un cecchino molto, molto super di nicchia. Secondo me non vale il vostro tempo. Potrebbe tranquillamente dedicarsi a fare la cubista a tempo pieno, che sarebbe anche carina, piuttosto che farlo part time e nel resto del tempo fare il campione su raid. Sì, siamo già alle orde, perché gli epici dei demoniaci sono tutti, grosso modo validi, almeno in cripta si possono portare. E' dell'oscura... Ragazzi, è terribile. Allora, è la dimostrazione che una persona per bene, se frequenta cattive compagnie, può ridursi in questa condizione. Quindi Ethel era un raro di tutto rispetto. Possiamo definirla un colletto bianco, insomma, una di quelle che lavorano dietro una scrivania, fa la segretaria, fa un lavoro del genere, degnitoso, ma neanche una cosa assurda. E poi gli amici dicono, dai, vieni con noi, vieni in discoteca qui e là. In discoteca comincia lo sballo, comincia a sbronzarsi, comincia a farsi di pasta e fatto sta che lei è l'unico campione che fa qualcosa se ci sono dieci avversari vivi. C'è solo un contesto nel gioco attualmente, dove ci sono dieci persone che possono coesistere come avversari, ovvero il ragno. In tutti gli altri contesti no. Quindi quando lei utilizza questo skill ci vede doppio, insomma, è talmente strafatta che vede più gente di quella che c'è, visto che per prendere un turno extra deve ucciderne dieci e poi non fa danno. Lei non fa danni, ragazzi, c'ha dei moltiplicatori veramente bassi, quindi è improbabile che lei prenda un turno extra perché ha ucciso dieci avversari, dieci ragnetti in quell'unico caso in cui lo fa. E si prende un turno extra per fare cosa? Per mettere il riduce di difesa? Forse. Per mettere un riduce di velocità? Forse. Non ha nessun senso, non ha nessun senso. Cioè, se voi pompate Ethel è meglio, ma è chiaro, perché Ethel è la versione decente, insomma. Questa non si può vedere. Poi ve la regalano, quindi è classico regalo un po' meh, che tu prendi proprio con i denti stretti e ti dici grazie. Magari era, che ne so, il maglione riciclato per 50 volte come regalo di Natale. Lei, ecco, Ethel Oscura non è nient'altro che questo. Quindi ve lo dico, non frequentate cattive compagnie perché poi finite così. E poi il peccatore profano, l'amico, quello che ti mette la pasta dentro nella bibita delle ragazze, no? Ecco, allora. Lui può fare qualcosa con la prima skill sicuramente, ma quella per cui è tristemente famoso è questa. Quindi voi vedete Max HP, nemici, e già vi sfregate le mani perché pensate a Cuore Glaciale? No, perché lui fa un terzo forse del danno, quando va bene. Sì, quindi è praticamente inutile, in sostanza, anche perché l'unico contesto in cui poteva essere interessante è il ragno. E il ragno è verde. Quindi che cosa sta succedendo nella mia vita? Peccatore profano, ragazzi, proprio non ci siamo. Cosa che fai con la terza? Non me lo ricordo neanche. Attacca tutti i nemici, danno aumento del 10% per ciascun nemico in vita, si accumula fino a un 100%. Vabbè, ok, schianata 11 avversari, quindi 110%, 10 regnetti più il regnone. Peccato che è verde, quindi vi farà un bel colpotebole super ciccione. Che bello, grandioso, grandioso, peccatore profano. Uno dei migliori, ti vogliamo proprio. No. E degli elfi oscuri, anche qui non è stato proprio facile, perché sono tutti mediamente abbastanza validi. Ma Guardiano è il classico amico che non balla, non sa ballare, non gli piace la discoteca, ma te lo porti dietro perché se no lo lasciavi a casa, di fatto. Quindi è l'uomo medio, insomma, fa delle cose utili, ma niente di particolarmente valido. È quello che a scuola prendeva sempre 5 e mezzo, ma passava l'anno perché poi gli arrotondavano il voto a 6. Quindi lui può mettere in debolimento a target singolo, ma la versione è piccola. Può mettere ad area il riduce attacco, ma la versione è piccola. Può mettere l'aumento a difesa su tutti quanti, ma la versione è piccola. E poi eventualmente mette rifletti danno con l'unica skill che potrebbe fare un po' di danno, ma la maggior parte del suo moltiplicatore è basata sull'attacco. Su un campione di tipo difesa. Grandioso. Quindi, guardiano, io non lo so cosa succede nella tua vita, figlio mio, ma è quel classico proprio quando gli manca tanto così per essere decente. Cioè, stiamo parlando di un epico. Farebbe schifo, anche se fosse un raro questo, ragazzi. Non lo utilizzereste mai, neanche se fosse un raro. Il fatto che sia un epico complica ancora di più la vita, perché con che faccia una persona può guardarci allo specchio dopo aver dato i tomi a questa persona qui. E ce ne vogliono un sacco, perché sono sei qui, sono sei qui, sono già dodici, e sono sette qui. E ho perso il conto. Diciannove. Eeeh, pazzesco. Pazzesco. Cioè, ci sono campioni come Frangiteschi che hanno bisogno di cinque tomi. E già senza tomi sono delle bestie, con cinque diventano assurdi. Questo qui, ragazzi, non ne ho idea. Cioè, da quando in qua può esistere un epico che mette solo ed esclusivamente buff e debuff piccoli. Già poco utili, in più, nella versione minuscola. Non ha alcun senso di esistere. Se qualcuno lo sa, se qualcuno conosce questo senso di esistere, per piacere mi illumini, perché ne ho bisogno. E poi abbiamo il campione utile, ma dove l'intelligenza artificiale manda tutto a quel paese. Quindi è la classica ragazza stupida che frequenta le discoteche, che potete tranquillamente portarla nei bagni in un attimo, perché proprio la testa non c'è. Non c'è, dunque. Allora, è nata per svolgere le sue skill in una predeterminata sequenza, perché se lei utilizza la sua skill primaria, può mettere riduzione e guarigione. Se mette la riduzione della guarigione, allora potrà indebolire. Se ha indebolito, allora potrà mettere riduci difesa. E tutte queste cose devono avvenire in quest'ordine in cui l'ho indicato io. È chiaro che non è così. Quindi lei prima utilizzerà la 2, poi utilizzerà la 3 e infine utilizzerà la 1. Quindi tutti i debuff più o meno utili che lei mette, non li metterà mai. Mai, mai, mai in automatico non li utilizzerà. A cosa serve? Ditemelo voi. Non serve a niente. Inutile. Quindi anche qui, ragazzi, è uno spreco di Tommy. Forse un pochettino meno importante rispetto a Guardiano, per carità, ma comunque 12 Tommy su questo soggetto qui. Capite anche voi che... Piuttosto leggetevi di voi. Voi diventate dei campioni più bravi, più potenti, vi inseriscono in raid voi, diventate dei campioni leggendari, leggendo i libri che dovevate dare a lei. Ve lo assicuro. 100%. E infine, dopo i baccanali, dopo le paste, dopo i balli sfrenati, dopo le cubiste, tutto il resto, abbiamo anche quelli che lavorano. E qui abbiamo la donna delle pulizie. Strega della cripta è quella che fa le pulizie alle 6 del mattino, quando sono tutti, praticamente, marci in giro. Qualcuno è stato buttato fuori, qualcuno ancora dentro a Carantola. E Strega della cripta è quella che fa le pulizie, il suo lavoro schifoso. E infatti, vedete che questa è la faccia con cui lavora. Questa è l'espressione che ha mentre sta lavorando, mentre gira con lo spazzolone. Mentre questo è quello che sta pensando un alien, perché lei vorrebbe essere in qualsiasi altro posto, ma purtroppo deve pagare le bollette e quindi le tocca passare lo spazzolone in giro. Allora, cosa fa? Ok, può ignorare scudo e blocca danno, ma non stiamo parlando di un campione che fa danni. Quindi, può mettere in riduce difesa, ma non a tutti. Due volte a caso, magari colpisce due volte la stessa persona. E non è che diventa particolarmente poco difeso. No, resta sempre con un deduzio di difesa soltanto. Quindi non ha alcun senso. Con la terza, attacco nemico, ignorerà il 50% della difesa se l'obiettivo è più veloce di questo campione. Interessante. In quale contesto? Forse in arena? Vado a colpire l'arbitre e l'avversario? Resta un fatto, però, che non ha poi tutti questi moltiplicatori assurdi. Quindi, sì, forse è un bene. Che il suo lavoro sia spazzare con lo scopettone, insomma. Cioè, non è che possa fare meglio di così. Non dateli Tommy, per carità. Al massimo dateli un mocio. E poi abbiamo il buttafuori, l'obitofilo, proprio letteralmente. Quindi quello che butta fuori i cadaveri, a tutti gli effetti. Quindi, con la prima attacca un nemico per due volte. Forse mette riduce difesa. Bene, bravo. Con la seconda attacca un nemico. Ha un 50% di probabilità di attaccare tutti i nemici con un colpo extra. E questa sarebbe anche carina, perché ha dei moltiplicatori dignitosi. È chiaro che è una lotteria. Se vi va bene, avete schiantato tutti. Se non vi va bene, no. Quindi, poco utilizzabile. Con la terza attacca un nemico. Piazza un velo perfetto su questo campione per due turni. Nel caso questo attacco risulti decisivo. Vabbè. Basta, però. Comunque stiamo parlando di un campione con un attacco di base un po' nella medio-bassa. Insomma, per un campione di tipo attacco epico. HP e difesa non esistono. È vero che lui... No, forse la difesa non è male. Ma gli HP veramente sono tremendamente bassi. Forse siamo più bassi di cuore glaciale qui. Però almeno cuore glaciale è utile. Allora, no. Sì, è il buttafuori questo qua. Questo qua è il buttafuori della discoteca. È il suo lavoro. Quindi stiamo parlando di tutte figure professionali che ci stanno tremendamente bene in quel contesto. Perché non continuano a farlo? Perché vogliono fare i campioni su Rai. Insomma, io capisco la gloria, l'onore, tutto quello che vuoi. Ma tanto non gliela darà mai nessuno la gloria e l'onore che restino a fare il loro lavoro. E infine ci sarebbero i nani. È vero, appartengono a un altro patto. E quindi potrebbe essere un'altra categoria professionale. E il problema è che sono tutti forti. E quindi non ho niente da dire. Ma qualsiasi di questi nani trovate vi sarà tremendamente utile in qualcosa. Quindi non cestinatevi perché nessuno di loro è un pollo. Tutti sono buoni. E come minimo nella loro cripta ognuno di questi può fare la differenza. E quindi se li trovate potete solo stappare la bottiglia. E insomma, tra il serio e il faceto tutto questo video. Ma in realtà tutta questa serie se vogliamo. Molto molto poco serio. E tanto 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 faceto sicuramente. Comunque è stato divertente. Io penso che sia stato quasi più divertente per me realizzare questi video. Che per voi che avete dovuto ascoltarveli. Comunque sì. Per adesso la serie sul pollame finisce qui. Un giorno magari vi parlerò anche dei leggendari. Vediamo. In 3.000 punte di piedi. Perché quando si va a toccare i leggendari. Lì davvero, davvero. Ci si spalanca le porte della pubblica disgrazia. E quindi insomma. Vedremo, vedremo. Ma non dico che non uscirà. Più avanti, più avanti. Avremo modo di parlare anche dei pollacci leggendari. Pollacci. Uh, ho già detto una cosa super grave. Dei campioni meno validi leggendari. Ok? Così è un po' più fair. Va bene. Allora, il video finisce qui ragazzi. Come vi dicevo è stato super divertente. Vi invito a lasciare un commento se vi è piaciuto. Se vi è piaciuta anche la serie. Insomma. Perché questo è un po' il capitolo conclusivo. Come al solito vi invito a iscrivervi al server discord. Per rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale del Bratipo Furioso. Mi raccomando. Accendete la campanella. Perché è risaputo che guardare i video. E soprattutto appunto essere iscritti al canale del Bratipo Furioso. In età scolare garantisce sei politico. E quindi se voi siete iscritti al mio canale. Lo fate vedere professore. E professore vi da sei. Minimo insomma. Poi se fate meglio vi da meglio. Ma comunque minimo sei garantito. Ve lo dico io. E con questa non ho altro da aggiungere se non siate furiosi. Ma ricordatevi sempre di rimanere bradipi. Ma ricordatevi sempre di rimanere bradipi.